Porto inarrestabile in questo inizio di campionato portoghese. Nell'ultimo turno la squadra di Sergio Conceiccaio ha rifilato una cinquina alla Portimonense. Doppietta di Brahim e Reti di Marcano, a Bobacare Marega. Non è più a punteggio pieno lo Sporting, bloccato sull'il primo gennaio dalla Morei-Rense e salvato da un'autorete. Più distanziato il Benfica che torna a vincere, grazie a Cervi e Jonas Autori del 2 al Pacos de Ferreira. Porto Portimonense 5 febbraio. Estoril Caves 02. Morei-Rense Sporting CP il primo gennaio. Benfica Pacos de Ferreira 2. Vittoria Guimaraes Maritimo 2 gennaio. Fei-Rense Belenenses il primo aprile. Tondella Braga il primo febbraio. Aves Rio Ave 00. Vittoria Setubal Boavista il primo gennaio. Classifica Porto 21. Sporting CP 19. Benfica 16. Maritimo 15. Braga 12. Rio Ave 11. Belenenses 10. Vittoria Guimaraes 10. Fei-Rense 8. Vittoria Setubal 7. Cave 7. Boavista 7. Pacos de Ferreira 6. Portimonense 6. Estoril 6. Morei-Rense 6. Tondella 5. Aves 5.